Ingegner Lenti, sono momenti di soddisfazione anche per chi lavora sul campo, per chi è abituato a intervenire, a farle queste opere nel concreto? Sì, ora sicuramente questa opera qua è la testimonianza concreta e un momento di soddisfazione comunque per quello che si è riuscito a fare, il tempo con cui quest'opera è stata realizzata, 70 giorni intensissimi in cui abbiamo risolto un grosso problema, va detto col contributo di tutti, della concessionaria, delle istituzioni che ci ha permesso di traguardare un risultato sperato però che non era così certo di traguardare in un tempo così breve. Questo significa anche però poter contare su maestranze che sanno come e dove muoversi e in che maniera intervenire? Sì, allora il nostro gruppo è organizzato fin dalla parte ingegneristica, poi dalla parte costruzioni, e quindi è una struttura oliata che lavora da tantissimi anni a 360 gradi su tutte le componenti sia della gestione che della costruzione. Ovviamente tutto questo è stato la chiave di volta e l'aspetto fondamentale che ha permesso di traguardare questo risultato.